Ciao ragazzi, è venuto in questo nuovo video Ora Faccio questo video Veloce, perché Aspetta, tu mi siedo Veloce Perché Sono sporco Veloce, sono su di sopra Veloce Dato che ho batteria Faccio questo video Perché Per chiedervi Io Volete delle live Qua su youtube Scusate Che le faccio, perché Perché Fare i video senza Un po' di live Capite Che è una cosa un po' strana Allora io Vorrei fare le live Quindi Se volete Delle live Le faccio Abilito il coso Le faccio Perché Perché vorrei tanto fare le cose Così parlo con gli iscritti Parlo un po' con voi E così Parlo un po' con voi Aspettate Allora Niente Allora Siccome No Se volete delle live Le faccio Se volete Era un video veloce Per dirvi Se volete delle live Le faccio Comunque Scrivetemi i commenti Se volete delle live Che le faccio Perché io non so anche come cazzo farle Le live Spero che questo video Vi sia piaciuto Iscrivetevi Condividete Attivate la campanella Passate le mie social Ciao alla prossima Fate Ciao alla prossima Ciao